Logic, chip, bit, lock, un linguaggio nuovo per un futuro che è già presente con il mio computer. Corso pratico di informatica per personal e mini computer che ti insegna fin da subito a utilizzare l'informatica per lo studio. Il lavoro, la casa, il tempo libero in modo semplice e divertente. Entra nel mondo dell'informatica con il mio computer. In edicola con i primi due fascicoli un'eccezionale offerta per acquistare il tuo computer Commodore. Il mio computer è una proposta di Agostini.